Oggi sono arrivati i primi pezzi di ricambio, nuovi nuovi, li abbiamo scartati come fa un bambino con i suoi regali la notte di Natale. Allora il frontale, arco dei vetri, passa ruota esterno, destra e sinistra, uno e due. Gli oblò, destra e sinistra, interno e esterno, la traversina posteriore del telaio, i sottoporti destra e sinistra, uno e due. Pianalino batteria l'ho visto, eccolo lì, quattro cavalletti, c'è tutto? Tutto, c'è tutto. Number one, organization, perfetto. Questo sarebbe il T1 esploso. Esploso. A terra. Spiace caldo. Fantastico. C'è tutto. C'è tutto. C'è anche le piante nette, guarda. E tu lì al centro sei sul? Nel centro, sul tetto. Tu sei sul tetto, che è in tela. Sì. Perché è un samba. Samba. È un samba. E il tetto in tela dov'è? Il tetto in tela... Ma la scatola non c'era, eh? Se non c'era, è un conto, tu lo dovevi ordinare a te. L'unica cosa dovevi ordinare a te l'era il tetto. Ordinare io? Ma te perci il capo. Ognuno il suo ruolo. Come vuoi aver ordinato il tetto io se non ho ordinato mai niente? Non li vido. Chi l'ha i contatti? Chi l'ha i contatti? Ma che non dico i contatti? Ti ho lasciato la mail. Io voi. Mandagli il tetto. Io voi. La mail. Mauro, non so nemmeno scrivere e mando le mail, ma che mi prendi in giro. Dai, vieni. Hai capito? Alla fine ce li metto sempre io. Ovvio, Mauro. Il tetto sono... Ma adesso è il capo di tua. Ma è solito, va bene. Lo sapevo io. Andava a finire così. Chi ci deve pensare? Maurino. A me di chi è la colpa non interessa. Va bene? Io dico soltanto che il problema del tetto in te la va risolto. A me lo dice Dio. A te lo dico. Ma basta, ma si arrangerà Mauro. È sempre così. Sempre già, ma sempre già. Allora, allora, innanzitutto calma. Non è che possiamo essere nervosi perché ognuno che arriva qui è nervoso. Non va bene questo nervosismo, va bene? Ci facciamo la pazza, Dec? È meglio, eh? Senti, però, io stavo dicendo. Tutte le lavorazioni abbastanza delicate di un certo tipo, chi le fa? Beppe. Beppe il chirurgo. Beppe il chirurgo. Ragazzi, quando Beppe lavora meglio non avvicinare. Io ve lo dico. E visto che io non ho niente da fare, sono a Firenze, ne approfitto. Per andare a trovare un amico, un vero amico. Volevo vedere se venivi in Toscana e non mi chiamavi, eh? Che miseria. Sono dovuto venire a Firenze per vedere. Eh? No. Ti ho portato un pensierino perché sapevo di questa tua passione e per darti, appunto, come dire, un bel viatico per il tuo programma Viti e Bulloni. che sono sicuro che... Bulli e Bulli. Ah, Bulli e Bulli. Viti e Bulli. Viti e Bulli. Viti e Bulli. Però, è per me? Sì, per te. Se lo vuoi aprire... Lo apro? No, lascialo così. Si va a indovinare. Da cento a casa devi indovinare cosa c'è. E io lo apro? Apri? Sì. Eccolo. Ecco. Vedi? Vedi? Ma questo è il T1. Scusa, come lo sapevi? No, cos'è? Questo è il T1. Il T1. Questo qua è un T1, vabbè, gli adesivi chiaramente... È quello di Renato Zero questo. Sì, questo è il Renato Zero. È T1 di Renato Zero. Ma questo è un T1, detto anche Samba, che in effetti il soprannome di questo, cioè il nome che gli veniva dato, era quello degli anni Sessanta, Peace and Love, vedi? Sì, ma poi un Samba perché è completamente vetrato. Questo ha un 21 vetri, quindi è di origine europea. Pulirli tutti. Ma tu hai avuto passioni per autovetture? Come? In passato. La tua prima autovettura, quale stai? La prima macchina... Guarda, se ti aggiusti le macchine così... Non ne so quante ne esce da quell'officina, eh? Allora, io ho cominciato... La prima macchina che mi sono potuto permettere usata è una Renault 4. Ti ricordi a Renault 4, perché non c'era il cambio, come questo, come questo sedano. A Croce. A Croce, esatto, questo qua. E l'ho presa proprio nel periodo in cui avevano appena trovato il colpo di Moro, dietro la Renault 4. E quindi mi fermavano ogni 5 minuti. Ma che colore era? Era da un altro colore, cioè c'era proprio niente. Ormai. Però ormai se la Renault 4 era quella dei brigatisti. Mi fermavano ogni 4 ore. Quando non mi fermava la polizia, mi fermavo da me. Perché siccome non avevo i soldi per la benzina, in più mi si era rotta la spia della benzina. Quindi io non sapevo che ci mettevo la benzina poca, ma non sapevo quanto durasse sta benzina. Alla tua trasmissione Viti e Bulloni. All'amicizia. Cenare con Giorgio mi ha fatto distrarre per un po'. Così non ho pensato al tetto in tela che manca. Speriamo di trovarlo in fretta perché va bene divertirsi e scherzare. Ma qui si resta ora sul serio. Comunque alla prossima. Viti e Bulloni. No. Bulli e Bulloni. Naggia a Giorgio che... Grazie a tutti. Grazie a tutti.